Gossip Barbara D'Urso lascia Domenica Live? L'annuncio clamoroso Barbara D'Urso potrebbe lasciare la conduzione di Domenica Live? Ecco cosa sta succedendo. Gossip Barbara D'Urso. Per scegliere la nuova presentatrice del GF e a quanto pare la scelta finale sarebbe ricaduta proprio sulla conduttrice di Cancelletto Pomeriggio 5 e Cancelletto Domenica Live. Domenica Live, arriva l'addio di Barbara D'Urso? Per la D'Urso si tratterebbe di un ritorno al timone del reality show che lei stessa ha già condotto per tre stagioni con grandissimo successo di pubblico e ascolti. Un impegno che sicuramente richiederà un grande sforzo alla presentatrice dato che il grande fratello va in onda da Roma mentre le trasmissioni del Daytime di Canale 5 vengono trasmesse in diretta da Milano. In queste ore Barbara D'Urso sta tenendo i suoi fan con il fiato sospeso sui social, dopo aver annunciato che al più presto pubblicherà un video rivelazione in cui annuncerà di aver fatto una scelta sofferta e difficile sul suo futuro professionale. Di sicuro la D'Urso in questo video annuncerà ai suoi follower che ritornerà al timone del grande fratello 2018 ma al tempo stesso potrebbe dare anche un altro brutto annuncio. I nuovi impegni tv di Barbara D'Urso da aprile. . Si vocifera con grande insistenza che la D'Urso potrebbe lasciare la conduzione di una delle sue trasmissioni del Daytime. Al momento si parla di un possibile abbandono di Domenica Live, il contenitore del Daytime di Festa di Canale 5 che registra ogni settimana ascolti ben al di sopra di tutte le aspettative con una media di oltre 3. . Due milioni di spettatori a settimana. Al momento, infatti, dato l'impegno della D'Urso dal 23 aprile con il grande fratello 2018 si vociferano due possibilità. La prima è quella che Domenica Live potrebbe essere condotta da un altro volto mediaset a partire dal mese di aprile fino a fine stagione, la seconda è che la trasmissione potrebbe chiudere in netto anticipo rispetto al previsto per permettere proprio alla D'Urso di concentrare le sue forze sul prossimo impegno televisivo in prima serata. . . Cosa succederà a questo punto? La D'Urso lascerà Domenica Live oppure la trasmissione chiuderà prima? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore e vi terremo aggiornati in tempo reale. .